gentili telespettatori buona giornata quello che succede in italia è assolutamente incredibile viene beccato un magistrato che complotta contro le istituzioni legalmente elette c'è un'altra inchiesta ma beccano che complotta contro salvini contro i leader di centrodestra con altri magistrati dobbiamo attaccarlo anche se sta facendo le cose bene una cosa che secondo me è gravissima gravissima ma in italia una persona che fa questo addirittura apre un partito politico contro la mala giustizia di cui lui era il re incredibile no incredibile 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 solo in italia può succedere una roba del genere e così luca palamara quello che complottava contro la politica di centrodestra adesso apre il suo partito che ha come proposito cancellare l'uso politico della giustizia beh insomma come vi dicevo solo in italia può succedere una cosa del genere e così l'ex presidente dell'associazione nazionale magistrati luca palamara scende in campo e fonda oltre il sistema ma oltre il sistema non può essere che un altro partitino dallo zero virgola qualcosa che realmente non serve a niente veramente pensa questo giudice beccato a complottare contro il centrodestra che possa essere possa diventare veramente un parlamentare ma lui fonda oltre il sistema una proposta per l'italia dove al tema centrale della giustizia verranno affiancati i temi dell'ambiente del lavoro dell'economia della scuola dell'informazione piccole e medie imprese sicurezza giustizia sociale insomma tutto ecco e quando è tutto è niente voi lo sapete no un programma di governo un programma di governo luca palamara fa pure il programma di governo veramente non ho parole un programma di governo in vista delle prossime elezioni politiche da condividere senza preclusioni partitiche ho deciso dice di continuare la mia marcia per la verità caspita e per la democrazia in questo paese vengono i brividi a sentire queste cose e invito tutti coloro che condividono questo messaggio a metterci la faccia insieme a me e scendere in campo per far sì che la giustizia sia un tema dirimente e imprescindibile per le elezioni del 2023 con questo praticamente palamara sta diventando l'uomo che cerca di sistemare la giustizia da da quello che non va dove quello che non va era lui è incredibile è veramente incredibile mi rivolgo a tutti lui destra sinistra centro astenuti a politici voglio creare una piattaforma iniziale su cui innestare con forza un movimento riformatore nuovo l'appuntamento per gli stati generali pensate un po è sabato 23 luglio a roma l'hotel baglioni il simbolo del movimento la dea bendata della giustizia con l'italia sullo sfondo il tricolore in basso ho provato sulla mia pelle cosa significhi andare sotto contro un sistema che si regge da anni e determina l'inizio e la fine di un leader politico ma di quel sistema lui ne era un attore principale però quando da quando è stato beccato lo contrasta eh beh cavolo no facile fare così no quando ti beccano con le mani diventi quando ti è come se uno che beccano a rubare il giorno dopo vuole fare il poliziotto insomma vabbè sembra un po una cosa di convenienza no e così aggiunge ho provato sulla mia pelle dice palamara cosa significa andare contro un sistema che si regge da anni e determina all'inizio la fine di un leader politico la fine ad orologeria di governi eletti dal popolo io credo che oggi dopo che si è squarciato il velo di ipocrisia non è che si è squarciato il velo di ipocrisia t'hanno beccato con delle intercettazioni telefoniche ma lui dice che si è squarciato il velo di ipocrisia che attanaglia da decenni la giustizia si è giunto il momento di dare un taglio secco col passato e cancellare per sempre il ricorso strumentare all'uso politica della giustizia tu lei lui vorrebbe dare un taglio secco col passato in modo da dimenticare quello che ha fatto anche lui no come dire mi hanno beccato ma dai facciamo finta cancelliamo tutto secondo palamara la giustizia deve essere declinata in ogni sua forma e partire dalla giustizia sociale la giustizia economica la giustizia fra popoli giustizia nei concorsi sperando che non siano già coi posti assegnati un compito certamente impegnativo ma è l'unica strada per fare rinascere l'italia e riportarla ad essere fra le prime dieci potenze mondiali ricordiamo a palamara che l'italia è già tra le prime dieci potenze economiche mondiali questo è per farvi capire che a volte uno dovrebbe parlare di quello che sa il compito di riportare l'italia tra le prime dieci potenze mondiali e l'italia è già lì caro il mio palamara insomma prima di parlare magari una ricerchina magari anche in internet semplice di dieci secondi comunque l'italia dei palamara è incredibile veramente incredibile vabbè è un è un ovviamente è un partito che non andrà da nessuna parte nessuno voterà un partito di un ex giudice beccato a complottare contro il centrodestra e da lì in poi si è trasformato nel paladino della giustizia giusta insomma dire che è una roba così dire che è una roba ridicola è dire assolutamente poco poco dire fermeremo quei giudici ma come eri tu uno di quei giudici e devo affermeremo quei giudici incredibile incredibile ma vero verissimo verissimo non si preoccupi palamara in parlamento non ci metterà mai piede nessuno vorrà un personaggio del genere si trovi un'altra fonte di ingresso economico visto che quello della giustizia è finito in politica se lo scordi o almeno non credo che ci siano il 3 per cento di italiani che votino un ex magistrato che complottava contro i politici eletti non credo proprio o meglio lo spero proprio grazie a tutti per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti ciao